Vieni dalla Cina! Allora partiamo dalle felpe per la mamma e papà Allora papi Prova Mamma per te è uguale Guarda Tommi da mosa Tommi da mosa Papi vieni Sembrano le stampe della lina Questo è quello che volevo Papi guardati Tiene caldo Tiene caldo Belle 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 Sì Calde L'amma diventavo qualche tamale Cuscio Mamma guarda Questo è per quando cucini Mettetene su così non ti sporchi Ma la fantasia devo mettere col cappello E poi ti ho comprato un pigiamino oppure una tutina per l'estate Wow che bello Bellissimo Ti piace? Ti piace mamma è bellissimo A te ti piace? Da morire Provatelo Ecco da sopra E' bellissimo E' bello Mi piace E' un po' di rinnessi E' un po' di rinnessi E' un po' di rinnessi Guarda ti abbiamo regalato anche una strumenta musicale cinese Guarda Wow Ma veramente Grazie Ti piace Da morire Si chiama in cinese hulus No No E' al contrario E' al contrario E' al contrario E' al contrario Ah si 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 c'è una scritta pure Tipo un flauto In cinese si chiama hulus Hulus Ah 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 Questa si chiama hulus otto lo strumento si chiama hulus Hulus una estima muni Altro regalo di data Ah 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 dai apri questo Ah 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 Ok bellissimo Wow E' oro E' d'oro E' un anello portafortuna cinese Wow, grazie Mamma, poi guarda cosa ti ho portato, che a te piacciono Ah, i ventagli Che belli Bello Fallo vedere, fallo vedere che bello Wow Bellissimo Wow Ah, questo è dietro, cosa c'è scritto? Ten chun, ten chun yu chu Vuol dire semplice e interessante, Luca ha detto come te Amore, grazie Aspetta che vi insegna Luca come aprire il ventaglio, perché non siete capaci No Ma facendo me capo fa santi E perché io sono mancina, ecco perché Eh, va bene, cambia Cosa c'è? Non sei capace Non mi viene, perché dipende da come, vediamo come fa lo scatto forte Vedi? Ok Ah 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 Ya Maginare Mi mamma è stato molto adattante Non ho capito A me fa questa roba Giuseppe Ah, come? Chia Mautei 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 papi quanto costa secondo te? 3 euro ciao! secondo te mamma? 15 euro, 100 euro 400 euro! si si! cosa? si! 400 euro! ma veramente? papi ha paura di prendere la mamma si! si! vieni su adesso! si! vieni, vieni! si! si può fare il baciato con Luca? si può ciao! zio guarda uno dei regali che ti abbiamo portato! bello! grazie! bello! grazie! grazie Luca! finese? come si dice? grazie a tutti ho decine? beep a tutti? ob Ad debris! ciao! troia girl! ciao Luca! ciao ciao! scέλ ciao! ciao! ciao a tutti! ciao la mamma da ci è successo! Ciao zia, amore, come c'è? Bello! Regalini dalla Cina! Allora zia, tu che hai sempre freddo, guarda queste belle pantofole Mi dispiace a mettere Zia, non so se le metti però guarda i bracciali di Giada Bello! Braccialettino con la perlina d'oro Tè! Bello! Ok! Stai con questo però, con il cappellino anche Allora, questo è per te Grazie, che bello Questo qua si chiama Picchu Picchu? Picchu Com'è che si chiama? Picchu Picchu Questo animale qua mangia e non va in bagno Questo vuol dire che guadagni i soldi e non esco E lo spendo Questo vuol dire che guadagni i soldi e non vengi i soldi Picchu 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 però abbiamoniejso diversi infatti con altri paesi che bisogna chiamarla il nostro paese mi allo cibo per investire nei nostri paesi i stessi wings ma ora che vengono i plei in Milano ma non fare messi malo ma non fare i nostri fitti i nostri venti e fare i nostri conti rischi via il cao Ciao Ciao per few minutes Grazie a tutti i nostri amici